Porteremo al Museo Nazionale della Fotografia, che tra l'altro è proprio a Brescia, nel cuore della nostra città, e abbiamo con noi Luisa Bondoni del Museo Nazionale. Ciao Luisa, ben ritrovata. Grazie mille. Bentornata in Teletutto Racconta. Allora, abbiamo tante cose da raccontare e anche tante immagini da mostrarvi. Tra l'altro si è chiuso il 41esimo concorso San Faustino e tra poco parleremo anche di questo. Poi è anche una mostra che in realtà rimarrà aperta fino al 6 maggio, ma io ti cedo la parola, quindi parti tranquilla, vai. Sì, allora sabato scorso, sabato 5 aprile, abbiamo inaugurato tre mostre, come facciamo ogni mese, nella sede di Contrada Carmine. Sabato è stata una giornata molto importante, abbiamo inaugurato il 41esimo concorso San Faustino. Quindi per il museo è stata la 41esima edizione, a cui hanno partecipato davvero tantissimi fotografi. Speriamo cos'è. Perché San Faustino? Allora, ovviamente perché è la nostra festa patronale, quindi è un avvenimento molto importante per la nostra città. E quindi già 41 anni fa si era deciso di dargli il giusto onore organizzando questo concorso fotografico, a cui possono partecipare tutti con un massimo di 4 fotografie e non è solamente ristretto alla fiera della nostra città di Brescia, ma è allargata a qualsiasi evento che riguarda la manifestazione che viene organizzata dalla confraternita e in più è allargata anche per esempio la festa patronale che si svolge a Sarezzo. Quindi molte delle fotografie che sono pervenute riguardavano appunto anche Sarezzo e tra l'altro anche il vincitore del premio Under 35 ha scattato una fotografia proprio durante questa festa a Sarezzo. Che poi tra l'altro io notavo anche in Facebook, nelle giornate di San Faustino vengono postate tantissime fotografie perché la fiera oggettivamente ti cattura l'attenzione e quella voglia di scattare anche col semplice smartphone una fotografia. Può essere a colori, può essere in bianco e nero ma sempre a suo fascino. È vero, sì. Poi la fiera è più o meno sempre uguale a se stessa. Quindi è anche una sfida per i fotografi riuscire a cogliere quell'attimo particolare, quel viso, quell'espressione oppure riuscire a dare un taglio, un'inquadratura diversa giusto per distinguersi poi in questo caso per poter poi partecipare al nostro concorso. Sai Luisa, anche il giornale di Brescia ha lanciato un'iniziativa molto simpatica in quei giorni, non so se ne sei al corrente. Aveva chiesto ai lettori di riconoscere nei vecchi scatti posti, ma in modo particolare persone che poi nel corso del tempo magari hanno cambiato la fisionomia, però riconoscebili e ne sono arrivate di segnalazioni, proprio perché come si dice viene scattata la fotografia e poi nel corso del tempo magari puoi ritrovare il tuo vicino di casa. Questa è foto? Vogliamo commentarle? Stavano passando? Sono foto comunque che sono, eccole qua, perfetto. Sono immagini o foto? Foto, foto. Sì, sono alcune delle fotografie che sono state ammesse. Allora quest'anno avevamo i primi tre premi e ovviamente poi abbiamo avuto la miglior fotografia Under 35 che appunto dicevo è stata scattata a Sarezzo. Abbiamo avuto il premio Sobrietà in quanto era la tematica che era stata data dalla confraternità dei Santi Faustino e Giovita per le celebrazioni di quest'anno e in più abbiamo voluto dare due segnalazioni a due fotografie che si sono distinte fra tutte quelle ammesse. Quindi c'è come dicevo chi ha puntato magari anche sulla post-produzione quindi magari per dare quel tocco più innovativo, più originale giusto proprio per distinguersi rispetto alle altre fotografie. Benissimo. E questo è il 41esimo concorso San Faustino. Poi sempre fino alle 6 maggio c'è Lucio Vecchi giusto? Tra pittura e fotografia? Sì. È la seconda mostra che è allestita sempre fino al 6 maggio nel nostro secondo spazio espositivo ed è una mostra che è stata realizzata per ricordare Lucio Vecchi che è stato un importantissimo socio del nostro Cinefotoclub che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa. È stato soprattutto un paesaggista quindi questo lo si vede assolutamente, il proprio tocco, la propria visione in queste circa 30 fotografie che sono esposte e che sono state realizzate tutte in analogico quindi non si era mai convertito al digitale quindi è sempre rimasto un affezionato della pellicola ed è sempre rimasto attaccato al colore soprattutto in anni in cui c'era appunto questa diatriba tra il colore e il bianco e nero ha azzardato sempre ad utilizzare appunto il colore. Anche perché lui viveva nei colori sulla tavolozza, lui è anche un pittore, era un pittore. Sì, aveva questa vena artistica e quindi è stato anche pittore quindi quello che riusciva a fare con la tavolozza in qualche modo poi riusciva ad esprimerlo utilizzando il cavalletto. e la macchina fotografica e questo si vede soprattutto nelle immagini per quanto riguarda il taglio, l'inquadratura, la composizione c'è un rigore proprio ricercato e assoluto nelle immagini che li derivano appunto dalle arti figurative. Bellissima anche questa idea di questo fil rouge tra i tre piedi del quadro e della creazione invece il cavalletto della macchina fotografica, no? Sì, le due cose poi si fondono perché è assolutamente evidente proprio nelle immagini. Sono soprattutto fotografie che riguardano i paesaggi a lui più cari che sono state le campagne cremonesi, le campagne mantovane, quelle toscane. Era, piaceva moltissimo anche la neve quindi molti scatti ci raccontano questi paesaggi quasi sospesi in questo bianco assoluto. e un'altra tematica che abbiamo riscontrato frequentemente sono stati gli animali e in particolare i cani. C'è questo filone, questa ricerca e alcune immagini ce lo raccontano. Bellissime. Leggo nella nota, ha sempre vissuto la fotografia come momento di condivisione con gli altri, amava la tranquillità, l'armonia, la meditazione e la riflessione dello scatto. Esatto, è sempre stato lontano dai concorsi nazionali e internazionali ai quali i fotografi hanno sempre aspirato soprattutto nei decenni passati e ha sempre scattato solo per se stesso e in più scattava per se stesso ma cercava di vedere sia la pittura che la fotografia come un momento di condivisione. Quindi quando doveva uscire in un paesaggio en plein air come potevano fare gli impressionisti non lo faceva da solo ma lo faceva sempre accompagnato dagli amici più cari e dalla moglie che oggi conserva le centinaia e centinaia di negative, di stampe che nel corso degli anni ha raccolto e ha scattato. Mostra nel cassetto, che vuol dire? Allora l'anno scorso è stata ideata questa mostra, sono circa 10-12 immagini che vengono allestite sempre nella sala principale che vengono tirate fuori dagli archivi del museo, perché il museo possiede circa 60.000 pezzi tra negative, lastre e stampe. Rimangono solitamente nascoste, quindi non visibili. Con questa piccola mostra nel cassetto dammo la possibilità al visitatore, al pubblico di poter vedere queste immagini che altrimenti rimarrebbero nascoste. Per questo mese abbiamo voluto esporre alcune fotografie che parteciparono al concorso San Faustino del 1981, quindi del 33 anni fa. Sono praticamente tutte in bianco e nero e ci raccontano la fiera come era appunto... C'erano già i colori nell'81, però evidentemente... E' evidentemente ancora per un po' di artisticità, per dare questa vena... C'era un po' di nostalgia e malinconia. Sì, sono tutte stampe vintage, originali dell'epoca e ci raccontano appunto come era la festa 30 anni fa. In realtà osservandole si nota che non è molto cambiata, sono cambiati i personaggi, i modi di vestire, di abbigliarsi, però più o meno... Ma la fiera è quella. Esatto, l'anima è sempre la stessa. Allora, adesso abbiamo visto il presente e vediamo un po' nel futuro cosa c'è in programma. Allora, ci sono alcune mostre importanti che abbiamo in calendario. Abbiamo il secondo concorso dell'anno che è quello della Mille Miglia, quindi anche in occasione di un altro evento importantissimo della nostra città. Siamo la 26esima edizione quest'anno del concorso Mille Miglia. Avremo il premio Brescia, che è il nostro terzo concorso importante, che è quello che verrà fatto in autunno. In realtà in questo caso il tema è generale perché è proprio un concorso di fotografia artistica. Quindi in questo caso i fotografi possono proprio sbizzarrirsi. E poi a luglio abbiamo una mostra dedicata al nostro centro storico, di un socio collaboratore del museo, che è Piero Manenti. Che esporrà circa una quarantina di immagini in bianco e nero, che raccontano soprattutto il Carmine, come era negli anni 70, fine 70, inizio 80. Quindi è una mostra davvero bellissima, proprio perché Piero Manenti lavorava e viveva in Carmine. E quindi aveva questa confidenza con tutti i personaggi che abitavano allora queste vie della città. E quindi aveva questa confidenza che gli permetteva appunto di potersi avvicinare e di scattare senza problemi. Quindi ci sono delle immagini che vale davvero la pena di vedere, proprio perché c'è questa differenza rispetto al Carmine, come possiamo viverlo noi adesso. Soprattutto in questi ultimi anni. Adesso sta vivendo anche una nuova evoluzione, vedi la movida. Esatto. Allora, c'è anche la possibilità di vivere il Museo Nazionale della Fotografia con delle visite guidate, giusto? Sì, sono su prenotazione. Da settembre poi riprenderemo con le visite guidate della prima domenica del mese, che è un appuntamento fisso che adesso per l'estate sospendiamo. E poi ovviamente su prenotazione per singoli, per gruppi, per scuole c'è sempre la possibilità di farle. In che orari più o meno? Solitamente la mattina, però se ci fossero delle esigenze particolari si cerca di venirsi incontro. E il sabato e la domenica. E l'ingresso e la visita guidate sono entrambi gratuiti. Bene, Luisa, so che avete anche assegnato dei premi o comunque dei riconoscimenti. Me ne vuoi parlare? Sì, allora sabato, in occasione appunto dell'inaugurazione e premiazione di San Faustino, abbiamo consegnato di onorificenze come soci onorari. Annunzi a Vallini, direttore di Teletutto, e a Franco Solina, che è un importante fotografo bresciano, un fotografo alpinista. E in più, dall'anno scorso abbiamo ideato il premio per il personaggio bresciano dell'anno, che quest'anno è stato consegnato all'architetto Ettore Fermi per l'impegno nella metropolitana e quindi per questo nuovo auspicio di continuare su questa strada di rinnovamento, di contemporaneità che ha dato alla città. Vero, tra l'altro molto partecipata l'appuntamento, molto partecipato. Sì, c'era davvero tantissima gente, hanno partecipato e c'era presente anche Don Nolli in rappresentanza della confraternita dei Santi Faustini e Giovita. E poi rappresentanti anche di A2A, intravediamo. Esatto, sì, sì. Vabbè, certo che anche la metropolitana sta catturando l'attenzione di tantissimi fotografi passeggeri e non solo. Sì. Ci arrivano anche fotografie. Voi avete un sito internet dove comunque una persona si può avvicinare per conoscere la vostra realtà, ma anche per cercare di apprendere qualcosa? Sì, abbiamo un sito internet che è museobrescia.net e in più abbiamo una pagina Facebook che è molto seguita, quella che viene costantemente aggiornata, che è Museo Nazionale della Fotografia Brescia. È una pagina che basta cliccare e adesso il sito internet, tra l'altro, lo stiamo sistemando in modo che sia più facilmente utilizzabile anche dai tablet e dagli smartphone. In generale, benissimo. Noi ti ringraziamo, sei stata chiarissima, ricordiamo appunto museobrescia.net, visitate il museo voi stessi perché è nel quartiere Carmine, vicino alla chiesa se non sbaglio, accanto alla chiesa e c'è tantissimo materiale fotografico e non solo da visionare. Ringraziamo la nostra Luisa Bondoni, grazie mille. Noi ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco.